Ultima settimana di campagna elettorale prima del voto di domenica 26 maggio. L'intervista alla capolista nella circoscrizione isole Sicilia e Sardegna di Europa Verde, Nadia Spallitta. La lista Europa Verde, della quale sono capolista per Sicilia e Sardegna, ha come priorità la tutela dell'ambiente ed una forte azione di contrasto ai mutamenti climatici che sono determinati soprattutto dall'intervento dell'uomo che utilizza nei processi produttivi energie non rinnovabili e inquinanti. Quindi la prima forma di intervento per contrastare i mutamenti climatici che determinano scioglimento di ghiacciai, desertificazione di parti del pianeta, rischi per l'approvvigionamento idrico e potabile è proprio l'introduzione e lo sviluppo di energie sostenibili, energie pulite, energie rinnovabili. Quindi è necessaria una forte azione di rinnovamento e di riconversione in chiave ecologica e sostenibile dei processi produttivi all'interno di tutti gli Stati membri. Tra l'altro in questo modo si creano anche nuove occasioni e opportunità di lavoro. Immagino la ricerca, immagino anche tutto l'indotto collegato alla produzione di energie rinnovabili che derivino cioè dall'aria, dal vento, dall'acqua, dal calore. Accanto a questa azione noi riteniamo sia indispensabile un ritorno alla natura, all'agricoltura biologica, al consumo a chilometro zero e la salvaguardia dei nostri prodotti tipici locali. Anche attraverso l'introduzione obbligatoria di forme di etichettatura. Anche in questo caso, oltre a tutelare l'ambiente, la salubrità dei luoghi e la salute del cittadino, possiamo creare nuove occasioni di lavoro. Perché il binomio della lista Europa Verde è proprio questo, tutelare l'ambiente, creare occasioni di lavoro, garantire i diritti fondamentali che sono la salute e il lavoro primariamente. La salute è perché è indubbio che tutelare l'ambiente vuol dire anche avviare un'azione di prevenzione e non soltanto di cura alle malattie legate all'inquinamento del nostro abitato naturale. In Sicilia sono drammaticamente aumentati i casi di malattie tumorali e i casi di malattie dalle vie respiratorie strettamente legate ai fenomeni inquinanti. Indispensabile è quindi un'azione di prevenzione e anche di riduzione di questi costi. Noi immaginiamo una società che sia rappresentata da uno sviluppo sostenibile, vogliamo città sostenibili all'interno delle quali vengano coniugate l'edilizia a basso impatto ambientale, il trasporto elettrificato, vaste aree di verde. Questo renderebbe la vita, la qualità della vita migliore, garantirebbe il benessere dei cittadini, la salute e migliorerebbe l'economia locale. Credo che sia importante essere presenti in Europa perché l'Europa può rappresentare rispetto al resto del mondo la necessità di tutelare l'ambiente e bloccare e contrastare quantomeno i mutamenti climatici e perché l'Europa si può fare carico delle stanze e delle iniziative territoriali, un'Europa che noi immaginiamo unita ma anche più partecipata, con delle riforme che possono garantire al Parlamento europeo di essere portatore delle iniziative legislative e quindi delle stanze dei cittadini.